Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del pastore belga Malinois, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like, in questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Il pastore belga Malinois è una varietà del pastore belga classico, di medie dimensioni e dalla corporatura esile ma proporzionata. È originario del Malines, una provincia di Anversa, regione nord-occidentale del Belgio. Si tratta di una razza dal carattere molto vivace e affettuosa, sportiva e propensa al lavoro. Se vuoi saperne di più su questo canale sul nostro canale è già uscito un video a riguardo, chiamato pastore belga, cosa sapere? Che ti invitiamo a recuperare! Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. È una razza che va molto d'accordo con i bambini. Il pastore belga Malinois è un'ottima razza da scegliere, soprattutto se si hanno dei bambini piccoli in casa. Sarà un perfetto compagno di giochi, affettuoso e premuroso. Ricordiamoci sempre che le interazioni tra cane e bambino devono avvenire con tanta calma e soprattutto rispetto degli spazi. 2. È una razza molto fedele e legata alla propria famiglia. Questa razza è molto legata sia al suo padrone che alla sua famiglia e farà di tutto per dimostrarti il suo affetto e la sua fedeltà. Ha bisogno di tante dimostrazioni di affetto, per cui non prendetene uno se per la maggior parte del tempo resterà da solo a casa. 3. È un ottimo guardiano della casa. La sua genetica di pastore rende il pastore belga un ottimo cane da guardia, specialmente nella varietà Malinois. Molto protettivo e con un forte istinto per la difesa dei suoi cari. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo invece con i contro di questa razza. 1. È un cane impegnativo da educare. Purtroppo questa razza ha un carattere piuttosto nevrile e sensibile, per cui necessita di un padrone che gli mostri coerenza e fermezza, in modo da guadagnarsi il suo rispetto. A causa di questo aspetto si tratta di una razza consigliata soprattutto a padroni più esperti, poiché ha bisogno di un adeguato addestramento fin da cucciolo. 2. È un uragano di energia. Dal carattere vispo ed energico, il Malinois è un cane che non sa cosa significhi stare fermo. È un uragano di energie, sembra quasi iperattivo. Necessiterà quindi di tanta attività fisica e di stimoli costanti per essere felice e soddisfatto. Attenzione, perché se non sfogherà ad avere tutta la sua energia, tenderà ad avere comportamenti distruttivi. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul pastore belga Malinois. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare pro e contro nel prossimo video. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!